A Palermo, al Palazzo di Giustizia, la Corte d'Appello, preseduta dal giudice Antonio Napoli, a conclusione del processo di secondo grado, ha assolto l'ex sindaco di Agrigento e senatore Calogero Sodano, già assolto in primo grado dall'imputazione di concorso esterno all'associazione mafiosa. Secondo il sostituto procuratore generale Giuseppe Fici, che ha invocato la condanna dell'imputato a sei anni di reclusione, l'elezione di Sodano a sindaco di Agrigento nel 1993, sarebbe stata favorita sulla base di un presunto accordo dalle famiglie mafiosa grigentine e ciò a danno del candidato rivale Giuseppe Arnone, parte civile. Sodano è assistito dagli avvocati Salvatore Pennica e Antonino Mormino. Ascoltiamo. Senatore Sodano, la conferma della soluzione è anche in Appello. Il suo primo commento a caldo è stato un processo che non doveva mai nascere. Lei ha ribadito questo concetto? Sì, io l'ho ribadito a novembre nelle mie dichiarazioni spontanee perché avendo letto una dichiarazione della Polizia di un'informativa chiesta da parte del procuratore generale in cui chiedeva se Calogero Sodano avesse avuto rapporti con la criminalità organizzata, con la criminalità varia e principalmente col signor Arturo Messina. E la Polizia ha risposto che il signor Calogero Sodano non aveva avuto mai rapporti con la criminalità organizzata, anzi per quanto riguardava Arturo Messina avevano scritto, e quindi nero su bianco, che il signor Arturo Messina era stato visto ad un convegno politico all'Hotel Caos di un deputato regionale non faccio il nome per motivi di carità patria poiché è deceduto, che non mi votava, che ufficialmente aveva votato per il mio avversario o nemico che dir si voglia. Quindi il processo non doveva praticamente nascere. Se il caposaldo era che Messina aveva votato per me, come ha detto qualche pendito, non so se è inzufflato da qualcuno, non doveva assolutamente nascere. no? Che sono stati esattamente più di 13 anni di pene per il sottoscritto, per la mia famiglia, per tutti quelli che mi sono stati vicini. Lei ovviamente è soddisfatto della sentenza, anche se non la ripaga, appunto come ha testè affermato, di anni di tribolazioni, di patemi d'animo. Ma devo dire che queste ferite, io ho subito tantissimi processi e sono stato sempre assolto, ma questo era il più delicato, perché era il più infamante, perché avrebbe cambiato la storia e questa non era la mia storia, non era neanche la storia della città. Cioè immaginate un po' un sindaco condannato per mafia, cioè che questa città era in mano ai mafiosi, però alla fine la giustizia, anche se con molta lentezza, arriva. E quindi mi ripaga, sai che cosa? La solidarietà che ho ricevuto da ieri e fino a stamattina, anche stanotte qualcuno che dorme poco, di centinaia, ma dico centinaia di persone agrigentine e non solo della provincia, ma anche da Roma qualcuno mi ha chiamato, di solidarietà e di affetto nei miei confronti. Ma io questa soluzione la dedico soprattutto a mia moglie e ai miei figli. Ringrazio i miei avvocati, l'avvocato Antonio Mormino, che è stato insultato in maniera volgare dalla parte civile e per questo è stato anche condannato, una cosa estremamente rara, nella stessa sentenza a rifondere mille euro, che non sono tanti, ma vale però la sentenza di Contanna nel confronto dell'onorevole Mormino e anche onorevole. Quindi siccome io lo chiamo sempre onorevole perché siamo stati, lui era alla Camera, io ero al Senato ma ci conoscevamo, dell'avvocato Pennica e devo dire anche di mio figlio Giuseppe che ha tanto lavorato per questa sentenza.